Saluri e bene cattavosu in nosa su Gazzettino Sardu in Sardu dai canali 40 o in diri cattodici desu mesi de friagio du su mille dejanoi bie usu ita accuntessiri su pastoriu e su benidori dess'isula, su benidori dessa sardinia riseu viare in prazza e viare in strada se riendi se uso dottu pastorisi un'erchido e una furriara, una sistema sempre bruso graide a guantai i manifestazioni si posullati a risse ovvienata in doni al logo dessu nord a su sud desisula con buttegas a serrarasa, iscolasa, esboriasa e prazza sapreina sa devastorisi, scientisi, operaios, buttegerisi dottu su ayniusu contra sa dessa speculazione pruso che uno problema de su pastorio, uno problema de gustaterra in trea chiesti su un frendi lei se regula sa che voti bettendida a si morri in castello i scientisi si scolasa superiori si vianta a su gabbo de su corteo che esisti gumpriuda e sa attopio su differendi tra essendi dottu su sagittari pastorisardo notta renda sa dove viare a scritto in sullenzolo ghi tenianta a parau a inantesi sa processione esisti firmara che su palazzo de sa regioni in sa rugadrento menui ai stresi de meigama si vuntato via uso a che sa sessorau des agricoltura sa sessori caria con francesco pigliaru presidente dessa regioni una scanto consorzio su una scanto cooperativa sa sa cia confra agricoltura e coppagri con i spastori si dovviera una delegazione che ne sigla sa attopio con una mesa regionale del sull'attino ha riprodusio il risultato su cinque centesimo su scetti e impruso uno vrastimo che sa truppa dei genti da inforasa appustesi dei cinque horas del regionamento su ari arriccio da mala manera sa lotta la sigli ricarà a sa attopio in benienti concordavo con su ministro dell'agricoltura centinaio su bintuno dei gustumesi in sintesi oi matteo salvini lompili in sardinia che essendo il ministro del sinterno noi ha rattene competenze sapete su desse argomento ma ari promettio a si imprenta appo abbassai santo valente in parisi con i spastori si sardo su maragianni in ora delle lezioni si esti sempre bruso abramio mischineddu e povero sangioni chiavetta la latte dai sumari anni una rara cussa canzoni una mano da essa grande distribuzione organizzata sa copp si enda de gdo cooperativa italiana ghettara un accinno de solidariedari pro i spastori si conforma su rempusu propassai gustagrisi arasegurais frunidoresi un obrezio de pecorino attales e der rispettai su draballo de spastori si pro un euro prusu iva de sullatti e sta nai che sa copp pigara s'impigno de pagai bruso caro su gaso a manera che i ziendas trasformadoras potan ta pagai de bruso ai spastori si un'idea ispantosa né dessa zienda chi anta poderai pro sudempuso bastanti agguantai gustagrisi de su mercau e ara pertocca i frunidoresi e i sallevadoresi ghi traballan ta sa procedura de pecorino su copp e fina sa gusso romano nara da sa zienda e in dunno comunicao da imprenta sa grisi o indiri de su pecorino romano de sullatti de brebei accuntessi di pro cajonis in mera che volinti acconciaras una a una toccara concordai dottui sfainasa a filera prostressiai subradurasa de offerta doi volinti inasa filerasa bruso cruzasa e doi voliri de boni in parisi si endasa a profetto de una produsitura bruso differenziara se uso a disponimento e spera uso ai 5 metà contessi riman su nord des europa da parigi ai accordi su de filera che bozza da atturai su prezio de sullati virmo e giusto per i totu sanno narara sa copp isa ero su de guerra f-35 in sardinia a saccabu su movimentu 5 stedus esti gumbinto des importu desa ina militari de ultima genia iari accordau prosa gompora de isa ero su de guerra f-35 che vina sa sa campagna elettorale desultima sa politica sa rappresenta ianta su malipeu su oi indiri nonno oi indiri gustu sa ero sull'ompentissario nautica militare italiana adretu su de primori intresatru su esercitosu in prosu gustaginia desistema armau permittiri annarri desa ero nautica despramiai vina sa pizzo desu draballo de pilota sa chiantavori ghiari prosu gomandusu isa ero su annarri desu stato maggiore desa ero nautica arase curai uno draballo primoroso pronnessi carantannusu isa ero su vunte i giai a che s'aeroporto militari del decime manno grazie a saposigiri nosa incruzzo si tenesi pregerisi che i nosi doi con isbessira sa invenientisi sempre in canali coranta adiosu